... Treviglio, vedete, non ha l'idea molto chiara, rischia di perder palla ed ora tentativo di Kidznik va a schiacciare. Sbaglia ora Weaver, c'è il rimbalzo, provi i miei amici, vuole incontrare i miei amici, segue benissimo Kenneth Simms. Buona questo gioco, due! Ancora Chase, serve per Okoye, che schiaccia! Senta problemi, raddoppiato Parks, aspetta un gran raddoppio, poi Montana gli scipa il pallone, dappure dopo a corre, Flowers alza la parabola! Edouard, Lee, Daniel, top ten! Guardate qui, eh, questa finisce nelle prime dieci. Prova con Ravenna, ma è molto brava la difesa della centrale. Montano clamoroso in difesa, 6 secondi, 5 secondi, Nelson si butta dentro, c'è l'aiuto di tutti, sa poi dal tabellone. Paganestro, Roberto Nelson, 1.04 alla fine, vediamo cosa succede, palla lunga, fuori, finisce qua. Trieste vince a Bologna, 74 a 72. Grazie per la visione!